Buonasera, buonasera, bentornati in onda. I giornali inglesi e i giornali americani lodano l'Italia per il suo comportamento virtuoso sul Covid e soprattutto sull'economia. Ieri un manifestante ci diceva, David, il Green Pass è la tessera del partito di Draghi e allora noi andiamo a vedere le contraddizioni di questa situazione. Draghi al governo, i manifestanti in piazza, in Italia e in Inghilterra. Siamo collegati oggi con Barbara Serra da Londra, abbiamo in studio Paolo Mieri e ci raggiunge tra pochissimo il filosofo Umberto Galimberti. Cinque minuti e siamo con voi. Questo giallo è meraviglioso, ti dona. E buonasera, buona domenica e bentornati in onda e buonasera a Concita De Gregorio. Buonasera. Allora, una giornata particolare, come avete visto, il caso inglese, merita, merita, grande attenzione. Da quattro giorni in aumento i casi, 45 mila contagiati da Covid, cercheremo di capire perché. E poi il porto di Trieste in Subbuglio con, pare, addirittura qualche infiltrato che è entrato all'interno del movimento. Noi abbiamo lì la nostra Roberta Benvenuto che tra poco ci racconterà tutto. In studio con noi il direttore Paolo Mieli con il Tribunale della Storia processo alle falsificazioni edito da Rizzoli. Una bella lettura da fare anche, come dire, assalti, ospizzichi e bocconi, grandi personaggi della storia che vengono, le cui storie vengono appunto riviste alla luce di nuovi fatti, nuovi racconti e ne parleremo. Intanto, subito, Paolo Galimberti, nostro filosofo di riferimento che tra poco sarà con noi in studio collegato da Milano. Intanto, Serra, partiamo subito da lei. Ci riesce a spiegare esattamente qual è la situazione e il perché di questo aumento di contagi visto che la popolazione vaccinata in Inghilterra a che punto sta, che cifra è rispetto all'Italia? Abbiamo detto, David, 45 mila contagiati in un giorno a fronte dei 2.400 nuovi contagiati in Italia. Quindi 2.400, 45 mila. Barbara Serra. E qui c'è una media comunque di più o meno 100 morti al giorno. Allora, la risposta semplicemente che se va in giro per l'Inghilterra o sicuramente per Londra è un po' come se il Covid non fosse mai successo. Perciò sì, ovviamente, la popolazione è per lo più vaccinata, è stato uno dei primi paesi insomma ad andare avanti con la campagna vaccinale, però le mascherine non si vedono quasi da nessuna parte a parte certe aziende private che le impongono. Nella metropolitana, dove in effetti dovrebbero essere obbligatorie forse neanche la metà delle persone ce le ha, le altre due mosse, perciò la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 15 anni sta andando molto lentamente, le terze dose stanno andando molto lentamente anche, ma la realtà è che qui non ci sono più restrizioni per una scelta specifica del governo. A giugno Boris Johnson ha annunciato il Freedom Day, il giorno della libertà, in cui sarebbero finite le restrizioni Covid e in effetti sono finite. Cioè non c'è veramente distanziamento sociale, come ho detto le mascherine non vengono usate. Ma chi finisce in ospedale, Barbara, scusami esattamente? Cerchiamo di capire. Sono vaccinati. Persone che hanno fatto, come dice il direttore Miri, la doppia vaccinazione, la doppia dose, Allora, c'è un po' di tutto e soprattutto anche gente che magari non ha potuto vaccinarsi, però il livello di ospitalizzazione anche se non è mai, anche il livello di morti non è sicuramente ai livelli che abbiamo visto a gennaio del 2021 dove si vedeva mille morti al giorno, perciò non siamo lì. Il problema è che ora è metà, è fine ottobre e abbiamo l'inverno davanti e non si capisce bene se c'è la preparazione anche psicologica da parte del pubblico di iniziare a mettere delle restrizioni anche se autoimposte. Però questo diciamo è un po' una scommessa del governo. Scusa Barbara, mi sembrava interessante questo causa-effetto che stavi raccontando fra il Freedom Day e quello che sta succedendo adesso, come se ci fosse un nesso proprio causale tra l'assenza di restrizioni, l'assenza di controlli, l'assenza di certificazione verde, di Green Pass e questa recrudescenza del virus. Te lo chiedo perché tu sai che noi un po' all'italiana non abbiamo introdotto l'obbligo vaccinale ma abbiamo introdotto diciamo una certificazione che in qualche modo spinge verso la vaccinazione. Allora c'è secondo te una relazione? E fra l'avere imposto il Green Pass in Italia? Eh sì, tra la rigidità... Diciamo che... Sì, allora non c'è anche se qui anche in Inghilterra c'è gente che rifiuta di vaccinarsi per mille ragioni però non c'è mai stato o almeno non ho sentito mai insomma l'astio che si è creato in certe parti della società per quanto una minoranza in Italia verso il vaccino e molto di quello l'abbiamo visto anche online. Perciò non è tanto una questione di vaccino però sappiamo che ci sono tanti incogniti anche nella vaccinazione ed è per questo che il governo come altri sta pensando a queste terze dosi. Perciò diciamo che anche chi ha la doppia vaccinazione è comunque una malattia che non si conosce bene e se entriamo nell'inverno nord europeo in cui comunque anche si stanno rialzando i casi di influenza normale perché non c'è più distanziamento sociale si ha paura per la sanità pubblica. Direttore Miri... E io trovo sempre molto difficile perdona l'ultima è sempre difficile fare a paragoni perché le culture sono diverse però sicuramente l'approccio italiano è stato più severo più serio e anche insomma ha dato risultati migliori. Mieli è l'approccio italiano che è stato lodato dai grandi giornali della cosiddetta finanza internazionale direbbe qualcuno e in patria un po' contestato anche se la maggioranza delle persone c'è più dell'80% alla fine si è vaccinato al Green Pass e non protesta cioè la famosa minoranza rumorosa che noi spesso qui raccontiamo. Ma ci credo bene che è stato lodato nel senso che se noi avessimo fatto cosa che si poneva come ha fatto Boris Johnson in Inghilterra è il secondo grande errore che fa Boris Johnson ricordate anche quello all'inizio della pandemia se noi avessimo fatto questo errore oggi saremmo in condizioni simili agli inglesi. Credo che io non ho letto statistiche credo che anche da loro 45.000 più soprattutto i morti gli intubati e i morti siano non vaccinati persone che non si erano vaccinate ma questa campagna della vaccinazione uno dice ma siamo arrivati a 87% adesso possiamo andare tutti liberi guardate che non è così non è così e secondo me il mio timore è che a un certo punto date le contestazioni con tutte le pressioni si ceda anche qua in Italia e si dica dai adesso tutto sommato è finito ora basta ogni tanto ogni tanto mi capita di andare in posti allora la prima obiezione che faccio è innanzitutto guardate lo vedete tutti coloro che non si sono vaccinati si espungono a andare nei tubi o nella morte coloro che sono vaccinati non gli succede quindi ci sarà comunque questo dato inglese è molto preoccupante e poi se anche noi adesso si mollassimo proprio per i motivi di cui parlava Barbara Guerra arriveremmo dentro l'inverno freddo con l'influenza senza sapere se è un'influenza o se è covid e ci troveremmo soprattutto i non vaccinati che rimangono sempre come si è visto 8 milioni Barbara però torno da te Barbara Serra a Londra perché il New York Times e il Financial Times lodano non soltanto le politiche adottate nella campagna vaccinale ma soprattutto la situazione economica italiana i consumi italiani sono cresciuti del 5,5 segnala il Financial Times e fa una previsione molto rosea per il futuro allora andiamo a parlare con te di economia perché in realtà l'Inghilterra rischia di passare un Natale nerissimo e di conseguenza il problema delle merci i blocchi dei porti e di conseguenza diciamo il mondo intero l'America hanno già nominato il Grinch il presidente degli Stati Uniti niente regali di Natale come il Grinch perché non arriveranno i regali di Natale quest'anno prima di parlare di cosa sta succedendo nei porti e nei trasporti inglesi andiamo però a Trieste al porto di Trieste dove Roberta Benvenuto che è lì da ieri che ha sopportato già le aggressioni ieri sera in maniera diciamo molto ferma costante brava Roberta ha scoperto qualcosa che cosa hai scoperto? Allora sì noi siamo ancora qui al barco 4 del porto di Trieste perché? perché la manifestazione come potete vedere alle mie spalle non è finita anzi la situazione è tendenzialmente esplosiva nonostante il tentativo ostinato dei portuali di tenere sempre tutto sotto controllo diciamo cosa è successo nelle ultime 24 ore ieri il portavoce dei portuali di questa sigla autonoma CLPT Stefano Puzzer ha detto smobilitiamo non è piaciuta questa decisione alla piazza che ha reagito con forza tanto che i portuali sono stati costretti a fare un passo indietro non solo anche lui il portavoce è stato costretto a dimettersi questo per dirvi che la pressione su questa piazza sui portuali è davvero alta e diverse sigle diverse realtà no bugs stanno cercando comunque di essere presenti se non di accaparrarsi di questa piazza noi oggi abbiamo parlato con fonti della prefettura che non ci hanno né confermato né smentito l'ipotesi di uno di uno sgombero ma la situazione dico esplosiva perché ad esempio oggi pomeriggio c'è stato un forte momento di tensione vi faccio ascoltare subito dopo quello che ci ha detto uno dei portuali l'infiltrazione le abbiamo avute lo so anche la polizia 100% noi non vogliamo queste infiltrazioni e cerchiamo sempre di fare il massimo di tenere tutto sotto controllo c'ho anche tanto stress perché stavo sempre davanti alla polizia non volevo che la gente andava verso la polizia perché già all'inizio abbiamo avuto un po' di disbito qualcuno ha iniziato a insultarli e io mi sono messo in mezzo abbiamo parlato con la polizia qualsiasi cosa ci mettiamo noi in mezzo ma voi ve lo aspettavate di essere infiltrati da noi aspettavamo solo famiglie bambini per divertirci fino a che punto potete andare avanti fino a quando abbiamo la resistenza di sopportare queste cose dopo dipende tutto dello stato se loro ci caricano ci caricano andiamo da professor Gallimberti professor Gallimberti benvenuto buonasera buonasera al porto di Trieste come hai sentito la situazione è questa gli infiltrati gli infiltrati da che mondo è mondo nei cortei a un certo punto no Paolo Mieli gli infiltrati però ci domandavamo già ieri e continuiamo a farlo oggi ma la ragione che porta in piazza tante persone abbiamo parlato di fascismi di neofascismi ma non è solo questo no che cos'è un desiderio di far sentire la propria voce di essere rappresentanti di se stessi di delegittimare il governo Draghi considerato come il governo del male diceva ieri uno dei manifestanti il Green Pass è la tessera del partito di Draghi che sentimento c'è dietro a questo? i sentimenti possono essere più vari tra quelli personali quando uno è soddisfatto dalla vita quando ci sono queste manifestazioni le approfittano per esprimere il suo disagio ci sono i Novak che mi paiono molto strumentalizzati non mi paiono i soggetti dell'operazione si affiancano per esprimere un loro dissenso rispetto a quello che loro ritengono non sia o sia una limitazione della loro libertà io però distinguerei all'interno di queste manifestazioni il fatto che gli operai hanno potuto in qualche modo lavorare almeno molti di loro e questo è molto interessante perché il porto di Trieste languiva da molto tempo ha avuto adesso un direttore molto bravo il quale ha creato un rapporto molto serio con tutti gli operatori del porto caratterizzato dal fatto che ha eliminato tutti i lavori precari li ha resi tutti a tempo indeterminato ha creato un'empatia con tutti quanti gli operatori di questo porto e poi soprattutto gli operai sanno e sanno benissimo che a 10 km dal porto di Trieste c'è il porto di come si chiama della Slovenia e poco più in là c'è il porto di di fiume che possono diventare i porti della Mitolo Europa che l'hanno già fatto nel periodo in cui il porto di Trieste non funzionava adesso che funziona è chiaro che tengono caro il loro lavoro Capodistria è lì a 10 km e si è attrezzata per accogliere le navi che non possono scaricare io farei vedere a Paolo Mieli e a tutti gli altri nostri ospiti questa divertente che non è una provocazione ma scheda sul cosiddetto PIL il ruolo che può avere il PIL il Green Pass o il Green PIL perché da qui ripartiamo sul tema economico vai il debito italiano è esploso durante la pandemia oggi siamo oltre i 2730 miliardi di euro di debito il PIL era crollato nel 2020 dell'8,9% per questo l'Europa ha stanziato per l'Italia a rischio fallimento 191,5 miliardi di euro il PIL oggi sta risalendo siamo a più 6% e questa crescita è fondamentale il rapporto al debito enorme solo se cresciamo tanto possiamo sostenerlo altrimenti falliamo per questo l'Italia è il paese più severo di Europa nel piano vaccinale si scrive Green Pass si legge PIL Pass allora Barbara Serra e poi Paolo Mieli Barbara Serra riprendiamo da qui l'economia perché parliamo di porti sono così importanti che cosa sta succedendo in Inghilterra come mai è il tema le merci il movimento sì infatti i vari prodotti che scarseggiano qui in Inghilterra qui c'è stato il caso del porto di Felixstowe che è il porto all'est dell'Inghilterra commerciale più grande del Regno Unito che è praticamente bloccato state vedendo le immagini ora e anche la previsione è che questi grandi porti saranno intasati dai 6 ai 9 mesi allora varie ragioni ma perché con la mancanza di abbastanza camionisti di cui abbiamo parlato per la questione della benzina ora invece c'è anche una mancanza insomma di operatori portuari ma ci sono tantissime mancanze di lavoratori immigrati che hanno lasciato l'Inghilterra negli ultimi anni tra Brexit e Covid e quello che il governo sta cercando di fare per riattrarre lavoro immigrato è dando dei visti speciali il problema è che non li sta prendendo non li stanno prendendo in molti perciò il governo ad esempio solo un paio di giorni fa ha offerto vari visti speciali per dei macellai perché ecco un altro problema a cui nessuno aveva veramente pensato che ci sono tantissimi maiali che non riescono ad andare al macello perché fra le altre cose non ci sono abbastanza macellai perciò diciamo che il governo sta cercando di attrarre di nuovo la mano d'opera che se n'è andata recentemente o che per varie ragioni non c'è ora ma non sta avendo enorme successo perciò sicuramente ora c'è più benzina nei distributori però si prospetta che nei prossimi mesi soprattutto arrivando a Natale ci saranno insomma varie merce che scarseggiano Paolo Mieli ma è uno scenario apocalittico cioè mancano le merci mancano non si sa che fare dei maiali non ci sono i portuali quello però è il combiato disposto Brexit-Covid mentre da noi la situazione è un po' diversa infatti consideriamo la situazione italiana che presa per il verso giusto e non è Draghi certo la parte principale del merito va a Mario Draghi però è in generale insomma anche il tipo di contestazione che abbiamo avuto noi dei Novax tutto sommato tranne dei momenti uno otto mesi fa e uno adesso quel sabato che poi è finito nell'aggressione alla CGL ma tutto sommato sai che ti dico io stavo pensando mentre ascoltavo Barbara Serra quando andrà al Tribunale della Storia si lo so è un gioco sul titolo del mio libro però l'alamorgese verrà riabilitata verrà rivalutata perché abbiamo avuto quell'incidente e le colpe sono sotto gli occhi di tutti quello dell'assalto alla CGL non voglio ritrattare nulla però la linea morbida di non cercare lo scontro di non fare anche adesso a Trieste di fare una gazzara come avete visto venerdì si è tutto smontato sabato è andata in modo ordinato l'Italia credo di capire è ben contenta di questo più 6% sta cominciando a riprendersi è lì che ha la propria attenzione di qui a Natale di vivere bene ed è consapevole che questa cosa non è disgiunta alla guerra al Covid che continua non è finita rimane però un dato professor Calimberti e poi apriamo l'altro capitolo che è questo il governo Draghi e Draghi in particolare è il primo governante europeo che ha avuto la forza l'autorevolezza dite voi ma di imporre uno strumento come il Green Pass così articolato dicono tra i più duri d'Europa lo può fare forse perché è un tecnico mentre gli altri governi hanno delle maggioranze politiche anche Macron lo ha fatto ma non diciamo con la risolutezza con cui lo ha fatto il governo italiano posso far vedere David a completare la tua domanda una cosa che ci ha colpito molto oggi c'è questa affermazione di Silvio Berlusconi guardi professor Gallimberti Silvio Berlusconi a proposito di delle manifestazioni no Green Pass ha detto un eroe è chi blocca un treno per Auschwitz non un porto per il Green Pass allora c'è anche questo tema insieme a quello che poneva David c'è anche il tema della come dire delle generazioni no un signore di 80 anni Silvio Berlusconi diciamo lo conosciamo tutti incarna una generazione che sa che il coraggio è quello di bloccare un treno per Auschwitz e non quello di bloccare un porto per il Green Pass forse nel passaggio generazionale si è come un po' indebolito anche il calibro delle parole no diciamo che la vecchiaia porta saggezza forse questa è la cosa più intelligente che ha detto Berlusconi nella sua vita effettivamente la metafora è molto bella e anche il riferimento a Auschwitz viene all'uopo visto che anche il fascismo in qualche modo si è manifestato nel frangio minoritario però era presente nelle manifestazioni per quanto riguarda Draghi beh la sua statura internazionale è soprattutto subentrato a seguito dell'incapacità dei partiti di riuscire a mettere in pista questa Italia e lui ha la possibilità di decidere da solo proprio per la condizione in cui è stato nominato e per la modalità con cui esercita il suo lavoro è in grado di decidere senza dover mediare è capace di dire tanti no mentre quando si è in una coalizione dove c'è una maggioranza e una minoranza qualificata parteticamente ecco che bisogna fare delle continue mediazioni e lo so le mediazioni sono la difficoltà della democrazia Barbara Serra che ci chiede la parola prego volevo solo aggiungere una cosa visto da fuori diciamo se Draghi può imporre queste cose anche perché alla fin fine ha la maggior parte degli italiani dalla sua parte io credo che non si può mai sottovalutare l'impatto che ha avuto l'Italia e gli italiani dal fatto che sia stato il primo paese occidentale colpito io l'ho sempre notato io ho vissuto il covid dall'Inghilterra ma io credo che alla base del perché gli italiani alla fin fine prendono il covid più seriamente degli inglesi io credo che questo grande shock iniziale continui a giocare la sua parte Paolo Mieli questo tema di Draghi un uomo solo al comando sai Draghi con il pro e il contro che questo significa ma è uno che andrà a verificare il suo operato se l'Italia si sarà ripresa economicamente e se sarà uscita costi quel che costi come dice lui non è uno che deve andare alle elezioni alla fine e questo fa la differenza nel senso che le furbizie che caratterizzerebbero qualsiasi leader anche me e voi se guidassimo una formazione politica cioè certo perché devi mediare ma sì dare un colpo dire e non dire e lui è un difetto magari però questo è anche un segnale di crisi del sistema di democrazia rappresentativa perché vuol dire che non funziona più tanto bene no quando c'è una guerra nei movimenti di guerra il governo è un governo in genere di salute pubblica in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale ebbe un governo di cui facevano parte il leader era un conservatore Churchill facevano parte anche i laboristi e in genere si tende a essere reali come lo storico Mieli ci insegna Winston Churchill vinse la guerra ma perse le elezioni ma perse le elezioni e Clemente ma quello ma quello è una cosa che può anche accadere però la cosa che nuoce la cosa che nuoce un paese o nuoce una leadership è se mentre stai facendo la guerra contro il covid devi tener conto di un'opposizione che ti induce in trappole ma certo non c'è dubbio è molto più semplice diciamo in una battuta potremmo dire che la democrazia è molto sopravvalutata perché nei momenti di emergenza non funziona nei momenti di emergenza bisogna che qualcuno decida uno a parte che quello lì poi ce ne vada finita la cosa è anche un rischio io ho una curiosità per la serra se mi rispondo al volo però proprio il grande Churchill definì Clemente Atlee un individuo modesto non privo di ragioni per esserlo nel giorno del suo insediamento Boris Johnson gode ancora di una certa fiducia tra i suoi cittadini elettori dopo quello che sta avvenendo in queste ore non ha una vera competizione né dentro il partito né fuori e sai noi qui è un sistema a due partiti perciò voti Labour o voti Conservatori e la realtà è che lui non ha una vera non ha una vera competizione non ha una vera minaccia questo Barbara è sempre un grandissimo vantaggio questo è sempre un grande vantaggio vincere per mancanza di avversari è una cosa piuttosto comune scusa se ti interrompo abbiamo solo pochi minuti volevo tornare un momento al professor Gallimberti perché parlavo con una collega anche l'ultraottantenne che voglio salutare perché non sta bene in questi giorni Sandra mi diceva una maestra Sandra Bonsanti mi diceva allora la saluto anch'io ci salutiamola tutti ciao Sandra speriamo che tu ti rimetta presto mi diceva ma questa piazza che va a urlare libertà libertà e ha la libertà di farlo cioè ha la libertà di andare in piazza a urlare libertà e nessuno ferma qualunque scempiaggine possa venire detta dalle peggiori che abbiamo sentito qua ieri ma non è che forse c'è una sono le conseguenze di una generazione sazia che non sa più che cosa chiedere che pretende cioè dal nome a libertà a qualcosa che non è la libertà non so se mi sono spiegata Sandra lo diceva meglio di così ma ci siamo capiti ma no ma certamente cioè loro estendono il concetto di libertà oltre il limite al punto che hanno la libertà di infettare anche me che non mi pare un buon esercizio della libertà prima cosa secondo la parola libertà ma anche un po' interpretata è comparsa per la prima volta proprio nella magna carta inglese e la la signora che è qui presente che conosco per la prima volta lo saprà senz'altro nella magna carta inglese 1300 compare la parola libertà freedom intesa come libertà dalla legge hai capito? e anche noi abbiamo avuto delle esperienze di capi del governo che hanno espresso la libertà dalla legge e questi esprimono la libertà dalla legge non la libertà e basta però Paolo Mieli diceva purché se ne vadano dopo devono risolvere i problemi l'uomo solo al comando però non tutti diciamo sono di questo avviso ho sentito Calenda per esempio che si è già espresso per la riconferma di Draghi visto che funziona visto che fa crescere il pil visto che fa teniamocelo dopo il mini spot però abbiamo 60 inderogabili secondi e il tribunale della storia in questo caso della 7 ci condannerebbe se Draghi deve tornare restare andare ce lo dirà Paolo Mieli fra poco dai Paolo Mieli l'uomo che risolve i problemi può farlo purché se ne vada o dopo può anche restare dopo come accadde in Inghilterra anche a costo di perdere il leader migliore che era sicuramente Winston Churchill ci devono essere le elezioni e il popolo va coinvolto nel scegliere il nuovo presidente del consiglio non ho dubbi Draghi la sua meta deve essere dovrebbe essere eletto capo dello Stato ma l'idea che avanzano cerchiamo di fare in modo che ci siano le elezioni un grande pasticcio nessuno vinca nessuno perde e riprendiamo Draghi mi sembra puerile puerile un po' quindi in linea con lo spirito del tempo ringrazio Barbara Serra di questa analisi con Barbara ci rivediamo presto credo non so se il prossimo weekend ma lo spero Galimberti con il suo libro delle emozioni con Galimberti facciamo ogni domenica un catalogo delle emozioni Galimberti ha pubblicato ne ha pubblicati due il libro delle emozioni questo è per adulti poi c'è anche quello per ragazzi ne parliamo la prossima settimana e Paolo Mieri con il suo tribunale della storia processo alle falsificazioni grazie a Roberta benvenuto da Trieste vi pare per ora tutto tranquillo non c'era il pagliaccio che ieri ti ha molestato e noi ci vediamo sabato prossimo alle 20 e 30 mi raccomando puntuali dopo di noi purgatori 5 giorni senza vederti? no ci sentiamo tutti i giorni in videochiamate grazie a tutti